buongiorno amici ci troviamo in florida vero beach novembre 2019 che dite questa bella macchina riusciamo a caricarla con un po di valigie vedete qui abbiamo le valigie riusciamo a caricarle tutte vediamo quanto spazio abbiamo ma non è tanto non è tanto ma c'è il trucco no non abbiamo ancora spazio sa che dobbiamo chiudere il tetto chiudiamo il tetto proviamo in tante richiediamo il tetto per caricare no per caricare Vediamo quanto spazio ci resta... ce la faremo? Prova a guardar dentro... ce la faremo? Prima andiamo con la grande... una città... guarda... guarda dentro... una... poi andiamo con qualcosa... un po' di calerini... acqua... è gippa... zaino... è dura... ma c'è tutto... ora vediamo altre cose piccole... sono qui scala maggi... Quanto spazio abbiamo ancora? Poco poco Cosa carichiamo adesso? Guarda qua quanto spazio abbiamo ancora Vediamo, il valigione ci sta Ci chiude? e questi dove li mettiamo? dentro adesso prima metterlo con un pocio abbraccio, il valigionetto. il valigino piccolo poterà tenerlo tra i piedi davanti sono pronti a partire? ciao amici alla prossima ciao 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 ciao